Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Mentre Stefano Pioli cerca di risolvere la crisi degli attaccanti Viola La Fiorentina già pensa al mercato di riparazione Grazie al quale potrebbe approdare in maglia Viola una nuova punta Un nome caldo è quello di Luis Muriel Il colombiano ex di Udinese Sampdoria Non trova abbastanza spazio al Siviglia E potrebbe per questo decidere di far ritorno in Serie A Su di lui oltre allo Sporting c'è anche il Galatas Rai Dell'ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim Un altro nome caldo in quest'ora è quello di Wesley Moraes Del Club Bruges Secondo il tabloid inglese De Sano Oltre all'Arsenal e al Valencia Su di lui c'è anche la Fiorentina Per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola